Ciao e bentornati a New Generation. Nuova puntata, nuova band. Questa volta ci siamo dedicati allo strumentale. Vi presento i Zolle. Grazie a tutti. 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 gli zolle in giro per tutta Italia. Vi diamo alcune date. Il 29 giugno al Sidro Club di Savignano su Rubicone, l'11 luglio al Bel Giardino di Lodi, il 20 luglio al Rock Valley Festival di Santa Maria della Versa, il 23 agosto alla Casa della Grancetta a Senigallia e il 27 di agosto al Tenda Blu di Brescia. In autunno invece ci si sposterà in Europa ma tutte le info ve le sapremo dare nei prossimi mesi. New Generation vi aspetta invece la prossima settimana. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook con la nostra pagina ufficiale e su YouTube al canale Musica e Parole. Se volete contattarci potete scrivere a musicaeparole.info chiocciola gmail.com. Io vi lascio con un altro pezzo degli zolle. Questo è Melikao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.